Stato streaming completamente a caso. Parla tu. Come stai Max? Abbastanza bene. A parte il fatto che non ho idea di quale sia la resa reale di questo microfono e si fischia tutto il tempo, ma tra poco lo scopriremo. Ma guarda che per me lo puoi tenere, anzi un pelino più lontano dalla bocca e sei a posto. Tipo così? Esatto, un po' di più. Perfetto, per me lo è già benissimo. Basta che non ci soffi sopra. Pensa che io so già il para schizzi. Levalo. Levalo e te lo un po' più. Ragazzi vi giuro. Così però non si sente bene. No? Si che si sente bene. Si sente meglio così? Meglio di così, anzi. Va bene allora GG. Boh io faccio stop streaming e guardo un attimino l'audio com'è. Ok aspetta aspetta aspetta. Continua un attimo a parlare. Che adesso che ti sento dentro. Cacca culo. Adesso metto. E vi metto a tutto il volume. Si dimmi. Raccontala. Cosa? La favola di cappuccetto rosso. La favola di cappuccetto rosso. C'era una volta una bambina di nome cappuccetto rosso. Questa cazzo di bambina non si faceva mai i cavoli suoi. E allora quando la mamma le disse sai c'è una nonna che dall'altra parte non ha fatto la spesa. Ah gliela vado a fare io. Ma non dire stronzate cappuccetto rosso. Che già solamente per comprarla dobbiamo diventare cretini. C'è l'inflazione e non arriviamo a fine mese. Poi anche se gliela porti devi farti tipo tutto quanto il viaggio io ti ricordo che ti è scaduto il bollo del motorino. Vabbè ma... ...